Le madri narcisiste rovinano i figli. Uno dei problemi di avere una madre narcisista è che i figli sono rovinati. Rovinati in che senso? È che mentalmente sono disturbati, diciamo. Possono sviluppare patologie psichiatriche, bipolarismo, possono sviluppare, diciamo, sofferenze forti, identificazioni sessuali che non hanno, non centrate, diciamo così, oppure anche atti di autolesionismo, di punitivi, insomma, dipendenze di varia natura, di vario genere. Quindi purtroppo le madri narcisiste distruggono e rovinano i figli. Questo purtroppo è un dato di fatto. Quindi se sei figlio di una madre narcisista dovresti cercare di staccarti. Purtroppo è che quando un bambino è piccolo è difficile che ci riesca. Metti un like con l'abbonamento base, seguimi i seminari. Ciao a tutti!